buongiorno avete appena cliccato su questo video perché siete interessati a capire se volete iscrivervi a questo corso di Enneagramma perché iscrivervi a un corso di Enneagramma perché l'Enneagramma è una mappa assolutamente innovativa che riesce a focalizzare la vostra attenzione sia su un approccio scientifico che su un approccio psicologico perché vi garantirà di imparare a trattare meglio il vostro stile personale, il vostro stile di leadership e il vostro stare in generale nel mondo nei confronti dell'ambiente, nei confronti di tratti caratteriali psicologici estremamente diversi da voi. Questo quindi vi garantirà di potervi trovare in una qualunque situazione personale, sentimentale, professionale, capire più velocemente chi avete davanti, capire più velocemente come interagire e capire più velocemente come state reagendo voi in relazione alle persone che avete davanti. Riuscirete ad avere uno sguardo e un diverso linguaggio all'interno di voi stessi in maniera più introspettiva rispetto al vostro pensare, sentire e agire e trovare quindi motivazioni, direzioni e azioni diverse in quello che fate in maniera più consapevole in qualunque ambito e contesto della vostra vita. Vi aspetto. Grazie.